Ok, buongiorno a tutti, anche in questa settimana di pre-festa, in questa settimana approfittiamo per mettere a punto un po' di tasselli che abbiamo lasciato in sospeso per dedicarci a cose un pochino più complesse come la ricorsione e ovviamente mercoledì c'è ancora laboratorio, quindi andremo ancora avanti su quella parte per poi iniziare dopo le vacanze i due ultimi macro argomenti che sono quelli sui grafi e quelle sulle simulazioni, ok? Quindi diciamo così, prima delle feste mettiamo a posto quelli che sono i fondamenti di strutture dati e algoritmi e poi li applichiamo nella parte finale. Allora, questa lezione l'ho infiliata oggi per approfittare del fatto che mercoledì in laboratorio vi ho visti penare e soffrire sulle date, no? E quindi quando uno poi una cosa la soffre, poi dopo se gli offre la soluzione la recepisce meglio, no? La sofferenza è una parte integrante dell'apprendimento. Allora oggi cerchiamo di parlare un pochino di date, data e ora. Quindi avere a che fare con i dati di tipo temporale. Ecco, voi siete gestionali e in qualunque cosa tocchiate di questo mondo sicuramente l'aspetto tempo, l'aspetto calendario ci sarà sempre. Quindi altre discipline magari possono farne meno, ma per voi qualunque cosa è sempre comunque riferita al tempo in cui avviene, alla data, alle attività, alle azioni, eccetera. Quindi purtroppo no, ci avremo sempre a che fare. Dico purtroppo perché lavorare con i dati, con le informazioni di tipo temporale, quindi date, ore, eccetera, è una delle cose più complicate. Non difficili concettualmente, ma è complicato il macchinoglio, adesso cerchiamo anche di capire perché. Essenzialmente perché il modo che abbiamo noi umani di misurare il tempo, se ci riflettete un attimo, è veramente incasinato. I mesi sono tutti uno diverso dall'altro e per l'altro non sono neanche uguali a se stessi perché secondo che l'anno sia bisestile o no, è anche la stessa regola dell'anno bisestile. E poi la terra gira, per cui abbiamo i fusi orari. I fusi orari che non sono neanche proprio tanto fusi, non fuso nel senso della forma geometrica, ma sono delle cose zigzag che tra l'altro cambiano nel tempo per renderci felici. E poi ogni... e questo solamente dal punto di vista del concetto del giorno e dell'ora in cui viviamo. Dopo di che questo giorno e questa ora lo possiamo scrivere in 17 modi diversi. In funzione della preferenza personale, in funzione della cultura, della lingua, il modo come si scrive la data di oggi cambia. E questo senza parlare di sistemi di calendario che siano diversi dal nostro gregoriano. Allora, questa è una complessità che c'è, non possiamo nasconderla. Allora ci sono, come sempre, delle librerie nei vari linguaggi di programmazione che cercano in qualche modo di gestire questa parte, di gestire in qualche modo questa complessità. E purtroppo a volte si cade o in librerie, in soluzioni che sono troppo semplici, troppo banali, che poi di fatto non rappresentano la realtà vera, oppure sono totalmente complicate macchinose da rendere quasi inutilizzabili. E per cui sono nati tutta una serie di miti, leggende, ma errori. Se voi andate a guardare questa pagina qua, sono un elenco, qui sono solamente le prime 34, ma poi in realtà continua questo elenco, di cose. E se a prima vista ovvie, ma in realtà false, no? Cioè la prima è ci sono 24 ore al giorno, ovvio. No, no, perché almeno due giorni all'anno quando cambi l'ora legale ce ne sono 25 o 23. E quindi se il tuo programma fa un'assunzione che ci siano sempre le 24 ore al giorno, almeno due volte all'anno si pianta o tira fuori il rotato errato. I mesi hanno 30-31 giorni, vabbè, noi lo sappiamo che non è vero, possono anche averne 28-29. Gli anni hanno 365 giorni. Febbraio 28 giorni. Vabbè, questi sono facili, in questi tranelli non ci caschiamo. E così via, no? Il fatto che una settimana o un giorno stesso, un periodo di 24 ore, possa iniziare in un mese e finire nel mese successivo. Quante volte, è vero, se ci riflettiamo un attimo ovviamente riconosciamo che c'è un problema, ma a volte non ci pensiamo nel momento in cui sviluppiamo la parte di cose che ci serve. Ma qui non andiamo chiaramente nel dettaglio, no? Semplicemente se volete divertirvi un attimo potete guardare a quest'altro, un altro sito che raccoglie un po' di queste cose. I giorni sono 24 ore, i giorni sono 86.400 secondi, che non è per nulla vero. In ogni giorno una stessa ora può capitare una volta sola. No, non è vero perché quando cambia fuso radio, le due di notte si ripetono due volte. Oppure se vi state spostando, se vi state spostando, se vi state prendere un aereo, le stesse ore possono saltare oppure ripetersi più volte. Ma vabbè, perché questa complessità? Perché noi in realtà quando parliamo di misura del tempo, vogliamo rappresentare tante cose diverse. Allora, la cosa più semplice è l'istante di tempo. Adesso, ora. È un significato ben preciso. Quando diciamo ora, al netto di effetti legati alla relatività di cui non ci occupiamo, rappresenta lo stesso istante di tempo in tutto il mondo. E' chiaro che cos'è. L'istante in cui c'è stato l'allunaggio, l'uomo è arrivato sulla luna per la prima volta. Quello è un istante di tempo ben preciso, uguale in tutto il mondo. Qui non c'entra che fosse giovedì, o che fosse febbraio, no, è a giugno, o che fosse in un fuso orario oppure in un altro. Quello è un istante di tempo slegato dal modo con cui viene misurato il tempo da noi. Oppure vogliamo parlare del giorno. Quando dico oggi, ci vediamo lunedì, dico una giornata. Non sto dicendo a che ora. Potrei dire lunedì alle 12. Sono due informazioni diverse. A volte ho interesse, il mio compleanno, che giorno è? È un giorno ben preciso. Ma è solo il giorno che conta, il mese anche. Quindi, nell'uso comune che facciamo delle informazioni temporali, spesso dobbiamo lavorare con delle informazioni imprecise. L'orario di lavoro, quando voi avete fatto il tirocinio, se lo state per fare, ci sarà un modulo in cui dovete scrivere l'orario di lavoro. dalle alle. È un range di ore all'interno di giorni non specificati. Non vi dicono il primo giorno che ora è enteco, ora esci, il secondo giorno che ora è enteco. Questo lo farai poi a consuntivo. Ma a preventivo dirai qual è un orario. Un orario è un intervallo di tempo che si ripete ogni giorno. Lezione di tecniche di programmazione è lunedì alle 13. È un intervallo di tempo che si ripete ogni settimana, di cui è noto il giorno della settimana e non il giorno del mese, e l'ora. Quindi, tutte queste variabili che usiamo per proprietà, che usiamo per rappresentare le date e i tempi, le usiamo mescolate in modo diverso, a sotto insieme secondo che cosa ci serve. Natale è il 25 dicembre, ogni anno. Poi c'è Pasqua, che anche lei si ripete ogni anno, ma ogni volta in una data diversa. E questo è ancora più complicato. Poi ci sono gli intervalli, no? Ebbè, la consegna è tra tre giorni, oppure tra tre giorni lavorativi, oppure il penultimo sabato del mese. Queste sono cose, frasi che sentiamo dire. Come appare queste, diciamo così, in codice, fare in modo che li potesse coprire o calcolare esattamente qual sarà la scadenza, non è per nulla semplice. Allora, proviamo a vedere come possiamo rappresentare queste cose. Poi alla volta. Allora, innanzitutto, separiamo bene due concetti molto diversi di tempo. Tempo macchina e tempo umano. Il tempo macchina è un tempo semplificato, lineare, che è quello che viene effettivamente misurato e gestito dal calcolatore. semplicemente il tempo macchina definisce un istante zero, primo gennaio 1970, ad esempio, nel modo attuale, i sistemi operativi attuali usano il primo gennaio 1970 come istante zero, e da lì cominciano a contare in secondi, in millisecondi, in nanosecondi, quello che è. Quindi il tempo macchina è un numero intero, un long, un intero normalissimo, di millisecondi o nanosecondi, a partire da una determinata data di riferimento, arbitraria, che hanno scelto, e poi ci sono messi d'accordo, hanno detto, usiamo quella data, usiamo tutti noi. Chi ha fatto il sistema operativo Linux, l'ha chiamata l'epoca, epoch, come data iniziale. Allora, questo è semplice, è un numero che si incrementa. L'importante è di aver fissato in modo noto, chiaro e universale, cioè su tutto il mondo, l'istante di partenza. Dopodiché siamo tutti d'accordo. Peccato che noi non contiamo, non viviamo in quel tempo lineare macchina, ma viviamo in un tempo articolato in cui ci sono tanti circoli ricorrenti, quindi l'ora che si ripete nei 60 minuti, il giorno che si ripete nelle 24 ore, la settimana che si ripete nei 7 giorni, eccetera, eccetera. Tutti questi cerchi, circoli di ripetizione, questi loop, si incrociano tra di loro in modi non... non sono multipli l'uno dell'altro, quindi non si incontrano in modo ordinato, si incrociano in tutti i modi più strani possibili. E noi ragioniamo sulle date e sull'ora, e sugli orari, come se fossero due cose diverse. Data e ora, sono due cose diverse. In realtà, sono due manifestazioni su due scale diverse, ma dello stesso fenomeno. Però noi mentalmente le teniamo separate. E questo crea anche confusione. E poi, vabbè, c'è tutto il problema, chiaramente, della... della... di come... della rappresentazione, di come queste date vengono lette o scritte a seconda della cultura, a seconda della nazione, a seconda del fuso orario, a seconda del fatto che siamo o non siamo in periodo di ora legale. Adesso, quest'anno, se ne è un pochino discusso, sembra che tra due anni non sarà più vero che in Europa tutti gli stati inizino e terminano l'ora legale nello stesso istante. Ogni stato deciderà un po' cosa fare, sarà più divertente. Vabbè, ma prima di vedere le soluzioni, cosa ci dobbiamo fare con le date? Allora, essenzialmente, noi pensiamo quando è possibile che il calcolatore dovrà fare delle operazioni su del tempo macchina, su dati rappresentati come tempo macchina, come numeri interi. Perché alla fine si deve misurare una durata di un intervallo farà differenza tra il valore del tempo macchina in un istante di tempo e il valore del tempo macchina in un altro istante di tempo e questa differenza mi misura la durata di un evento. Ma però, avendo a che fare anche col tempo uomo, la durata dell'uomo, allora avrò le operazioni, che ne so, di parsing. Cioè, data una data scritta sotto forma di stringa, convertirla in tempo macchina. Oppure, data un istante di tempo noto, convertirlo in qualche cosa di stampabile, di operazione di base, che non sono per nulla banali. Per il fatto che, appunto, la stessa data la posso scrivere in modi diversi, ma poi il suo valore, il valore che scrivo dato un certo istante dipende anche da dove sono, in che fuso orario mi trovo. Quando dobbiamo creare una data, 20 aprile 2019, allora io conosco anno, mese, giorno, ma qual è il valore numerico del tempo macchina che rappresenta a quell'istante? Come faccio a calcolarlo? Oppure, dato un certo istante di tempo, come faccio a sapere se è giovedì o venerdì? Cioè, estrarre una componente in tempo umano da parte di un numero. E poi ci sono tutte le parti di operazioni aritmetiche che ovviamente, se noi l'abbiamo convertito in tempo macchina, sono ovvie, ma se abbiamo invece o giorno, mese, anno, se vi chiedessi quante ore passano dal 20 aprile 2019 al terzo giovedì di giugno, detta così da domanda, vi ci vuole un quarto d'ora per riuscire a capire che conto dovete fare, quando giugno, quando cade il giovedì, il primo, il terzo, se il giorno 1 è giovedì, lo conto come primo, non lo conto come primo, è il primo giovedì della settimana completa, oppure il primo giovedì in assoluto, e poi devi fare i conti cini. E se lo devi automatizzare con un programma, al 90% lo sbagli. Allora, noi per fortuna non è che dobbiamo inventarsi tutto da zero, anzi, una delle cose che dobbiamo imparare è non inventiamoci niente, perché se lo inventiamo lo sbagliamo. Noi oggi, diciamo così, per convenzione universale, il tempo viene misurato sempre rispetto a un riferimento planetario, che una volta si chiamava il fuso orario di Greenwich, adesso lo chiamano UTC, che come definizione non è esattamente la stessa cosa, ma è un fuso orario che non cambia mai di riferimento su tutto il pianeta. Quindi, se ti chiedo che ora è, non sono le 13.30, ma sono probabilmente le 11.30 in UTC, noi siamo due ore avanti adesso, perché un'ora geografica del fuso orario più un'ora dell'orario estivo che tutti noi vediamo che è estate. Quindi, in quell'orario lì, se noi misuriamo l'orario secondo il tempo UTC, tempo coordinato, tutti sul mondo saranno d'accordo sulla stessa cosa. e saranno d'accordo su quando inizia il giorno, quando si passa da un giorno al giorno successivo e così via. Quindi, una degli approcci è riuscire tutte le volte che si può a memorizzare una data in UTC. Però, non possiamo far sì che il nostro utente lavori con un orario che non è il suo. E quindi, in qualche modo, tutti gli elementi di interfaccia devono tener conto del loro locale. Allora, ogni volta che rappresentiamo una data dobbiamo sempre chiedereci ma questa data è una data assoluta o è una data locale? Locale rispetto a un determinato fuso orario. E se sì, devo sapere ovviamente qual è il fuso orario. Poi avrò dei programmi in cui magari non devono lavorare su scala globale quindi va benissimo di lavorare solamente nel loro locale. Quindi, questa differenza già ci dice che nelle librerie ci troveremo probabilmente a che fare con oggetti che rappresentano l'ora globale e oggetti che rappresentano l'ora locale. L'ora locale ricordiamoci che non può cambiare o perché mi sposto o perché semplicemente arriva l'ora legale. Allora, questa è una figura che ho trovato abbastanza recente ma non sarà mai aggiornata su quelle che sono i fusi orari. Per fortuna sono pochi quelli che devono occuparsi anche di questo problema solamente se dovete fare applicazioni logistiche di viaggio su larga scala se andate a vedere zoomando la figura soprattutto dal link ci sono parecchie curiosità. A parte la forma strana di questi fusi orari perché ci sono alcuni largissimi altri strettissimi in alcuni casi saltano addirittura. Cioè, da un stato allo stato vicino scattano due ore e non una. In alcuni casi i fusi orari sono alla mezz'ora. un'ora e mezza più 4,30 eccetera eccetera non sono allineati di un'ora esatta. E poi, dicevo, non sarà mai aggiornato perché la determinazione del fuso orario è una proprietà che definisce il singolo governo. Perché soprattutto dove nascono e muoiono i dittatori nei vari stati la prima cosa che uno fa quando diventa dittatore è cambiare l'ora o cambiare l'ora legale o cose di questo genere. Tanto per asserire il suo potere rispetto agli stati vicini. Per cui, se fate caso negli aggiornamenti che vi arrivano nel sistema operativo una volta ogni due o tre mesi c'è sempre un aggiornamento alle time zone alle tabelle che dicono quali sono i fusi orari mondiali. Ma per fortuna che ci sono i fusi orari e tutto sommato c'è qualcuno che si prende la briga di tenerli di raccoglierli. Questa qua è una tabellina di quello che sarebbe successo cent'anni fa neanche nel 1957. Questa qua è una tabellina difficile da leggere che dice quando a Washington è mezzogiorno che ora è nelle altre città? E vedete che ci sono vedete no perché è troppo piccola ma sulla slide lo vedete c'è 12.02 c'è 11.47 11.32 11.44 cioè ogni città aveva un suo orologio locale tendenzialmente misurato sul mezzo di solare e quindi non c'era la discretizzazione questo è un fusi orario poi salta un'ora esatta e c'è un altro fusi orario no man mano che si spostavi gradualmente guadagnavi un minuto 2-5 dopodiché magari due città che avevano molto commercio tra di loro avevano interesse a tenere la stessa ora anche se nessuna delle due anche se non corrispondeva all'ora solare vera di nessuna delle due città quindi fino agli anni 60 c'era questa libertà in cui ciascuna città si impostava il proprio orologio perché? ma perché non serviva essere più precisi il telefono non c'era e il treno non c'era abbiamo cominciato a sentire la necessità di sincronizzare gli orologi innanzitutto chi creava le ferrovie e doveva dire il treno parte da qui in questa stazione a quest'ora arriva in quella stazione a quell'ora e sono sicuro che nel frattempo non c'è un altro treno con cui schiantarsi allora doveva avere un orario unico quindi il primo orario che parliamo degli Stati Uniti uniforme primo fuso orario ufficiale era il fuso orario dei treni delle compagnie ferroviarie che hanno cominciato a decidere un'ora poi da lì ovviamente con i mezzi di comunicazione anche poi diciamo così telefono, radio eccetera diventava importante avere un riferimento temporale unico e allora ci siamo messi d'accordo prima su scala locale poi su scala globale questo per quanto riguarda la misura del tempo per quanto riguarda i fuso orari quindi per quanto riguarda la scrittura del tempo anche qua nelle 12.000 variazioni locali che ci possono essere nei vari Stati c'è una norma ISO che ci dice ci suggerisce quale dovrebbe essere il modo più giusto meno ambiguo di rappresentare il tempo ecco la norma ISO ci dice le date si scrivono così anno mese giorno basta come fanno i cinesi essenzialmente prima l'anno poi il mese poi il giorno così come in qualunque numero lo scriviamo con le migliaia di centinaia di decine cioè mettiamo davanti i numeri di peso maggiore e dietro i numeri di peso minore qualunque altro modo di fantasia di scrivere le date crea dei problemi quindi quando possibile abituatevi internamente a usare una rappresentazione di questo genere è chiaro che all'utente finale non potete far vedere una rappresentazione di questo genere se lui è abituato a scrivere che oggi è il 10 aprile 2019 10 quanto è oggi 12 15 1504 2019 chi lo scrive col trattino chi lo scrive con la sbarra chi lo scrive col puntino il mondo è bello perché è vario però perlomeno sappiamo qual è la rappresentazione univoca di una data la rappresentazione univoca di un istante di tempo è data lettera T oppure spazio ora ora separata da due punti dopo l'ora può essere indicato anche il fuso orario in cui questa ora è rappresentata con un offset positivo o negativo oppure con un simbolo Z che indica 0 oppure il simbolo il nome codificato della timezone qui c'è tutta questa norma ISO di cui c'è un riassunto su Wikipedia perché la norma intera come tutta la norma ISO non è gratuita da vedere che ci permette se dobbiamo scegliere un formato di rappresentazione di una data scegliere questo no? ma ovviamente non può essere l'unico perché come dicevamo l'utente ha bisogno anche di una rappresentazione più vicina alla sua localizzazione ok venendo a Java Java fin da sempre dalla versione 1 ha avuto delle classi che permettessero di lavorare con le date dalla versione 1 fino alla versione 7 esistevano parlo al passato due classi date e calendar dentro il package Java Util che probabilmente avete già avuto modo di usare o provare a usare allora è abbastanza curioso che siano sopravvissute più di 10 anni queste classi perché fanno schifo in termini di implementazione di funzionalità eccetera eccetera Java.util.date è stata inserita già nella primissima versione di Java la JDK1 e quando hanno cominciato a usarla si sono subito accorti che non funzionava bene che non faceva ciò che doveva adesso vediamo qualche dettaglio in più e quindi se andate a vedere adesso la classe nella documentazione la classe date vedete che la maggior parte dei metodi che ha sono i metodi deprecati da 10 anni quindi a un certo punto l'IBM si è presa pena ha detto no ma la nostra classe data fa schifo io ne ho una che i miei sviluppatori hanno fatto si chiama calendar ve la regalo e quindi in realtà queste due classi date e calendar sono sopravvissuti finora fanno cose diverse convivono in modo un pochino non del tutto diciamo così fluido e calendar non riesce a sostituire completamente date perché ci sono alcune cose che date è capace a fare e calendar no cerco solo di farvi tra un attimo dei flash su perché non funzionano bene e quindi perché invece siamo felici che da java 8 in avanti ci sia un nuovo packet java.time con delle classi completamente nuove con finalmente un meccanismo di funzionamento più razionale più logico ok? più facile da usare e poi vi dico perché c'è Yoda qua allora qualche informazione sulle vecchie classi allora java day utile date perché le raccontiamo? perché purtroppo in tante librerie sono ancora usate quindi in qualche modo uno deve riconoscerle se non altro per starne lontano o per riuscire a convertire subito in qualche cosa di più gestibile allora l'oggetto date in realtà non è altro che un long quindi rappresenta tempo macchina lui non lo sa ma rappresenta solamente tempo macchina il numero di millisecondi dal primo gennaio 1970 calcolato alla mezzanotte utc quindi rappresentando un istante rappresenta sia una data che un'ora quindi già il nome date è sbagliato dovrebbe essere date time e quindi già questo ci confonde ok per cui per convenzione se io voglio solo rappresentare un giorno imposto l'orario alla mezzanotte di quel giorno lì dopo che devo decidere se è la mezzanotte euro locale o la mezzanotte utc ma tanto è una convenzione quindi in realtà non sarà mai precisa di fatto l'unica nozione che ha l'oggetto date è utc anche se gli agenti i programmatori li usano anche per rappresentare ore locali e come dicevo la maggior parte dei metodi ora sono deprecati l'oggetto date cosa ancora rivivo un costruttore che crea un oggetto date sulla base dell'istante attuale cioè quando faccio new date lui viene inizializzato è un oggetto immutabile viene inizializzato all'istante attuale oppure posso passare un long supponendo di conoscerlo e lui crea un oggetto date che contiene quel numero long che rappresenta appunto il numero di millisecondi dal primo gennaio 1970 e poi gli unici metodi che ha sono un comparatore after before dice se una data è prima o dopo un'altra vabbè un get time e set time che restituiscono oppure impostano il numero di millisecondi qui hanno fatto casino con i nomi perché io creo un nuovo oggetto date e gli passo un valore date ma per cambiare quel valore per leggerlo devo usare non set date ma set time e get time allora get time set time è la stessa cosa del date l'han chiamato in due modi diversi per farci felici però questo time non è l'ora è la data e l'ora e questa date non è la data ma la data e l'ora quindi il casino comincia già c'è il metodo toString che non è personalizzabile e basta essenzialmente ci sono questi due metodi di servizio che ci sono sempre ovviamente toString non personalizzabile ti stampa per forza una stringa di questo genere non ci piace e allora hanno inventato una classe che si chiama dateformat che si trova in un altro package di java.text che anche lì è abbastanza complicata nel senso che ci sono varie classi di formattazione e vari algoritmi di formattazione ad esempio c'è uno che si chiama simple dateformat che permette di formattare la data secondo la lingua locale e secondo un formato più lungo completo medio oppure breve e vabbè qui se vi serve di formattare una data questi sono i metodi per poterla creare formatare solo la data solo l'ora oppure date ora insieme quindi in pratica c'è questo oggetto dateformat che vi permette di formatare una data cioè visualizzarla noto l'oggetto data oppure parsificarla cioè data la stringa ottenere l'oggetto date quindi l'oggetto date da solo non è capace a leggere una stringa una data su forma di stringa ha bisogno dell'appoggio di un date formatter e questi sono ad esempio i formati con la lingua impostata in italiano che saltano fuori nel modo normale nel full nel long nel medium nello short sono formati diversi in cui la data viene stampata oppure viene riconosciuta e vabbè e poi volendo si può cambiare anche la lingua se io voglio che il mio programma parli una lingua diversa da questa ci sono la stessa data viene visualizzata in modi diversi ovviamente impostata secondo la lingua nell'ordine 21 maggio 21 maggio maggio 21 5 21 eccetera quindi questo poverino funzionava poi se a me non piace ancora usare uno di questi formati predefiniti posso specificare anche lì un pattern con cui formattava come piace a me usando i singoli campi e questi pattern di fatto fanno uso di una serie di codicilli di letterine che dicono io qua voglio l'ora l'ora su 12 ore l'ora su 24 ore il giorno della settimana eccetera eccetera vabbè ma non ci non impazziamo su questo dopodiché questo mi permette di leggere una data scriverla e basta cioè non posso farci nessuna operazione chiedermi domani che giorno sarà domani che è una domanda non è banale che giorno sarà domani perché oggi che è il 15 domani sarà il 16 aprile va bene perché non siamo alla fine del mese ma altrimenti dovrei cominciare a fare tutti i calcoli per vedere se sono l'ultimo giorno del mese o no se cambia il mese se cambia l'anno quindi questi calcoli qui l'oggetto date non li sa fare quindi se voglio fare dell'operazione devo usare la classe calendar la classe calendar è una classe che fa parte di un progetto di fare che aveva in mente IBM quando ho inventato questa classe qua ma parliamo di dieci anni fa poter gestire contemporaneamente tutti i sistemi di calendari del mondo quindi che ne so anche il calendario ebraico quello cinese eccetera eccetera che ragionano su anni diversi da quelli nostri del calendario gregoriano e quindi c'è questa classe astratta calendar che è in grado di rappresentare il tempo secondo un insieme di campi flessibile modificabile quindi è bello perché a questo punto può adattarsi in tanti modi diversi ma è anche scomodo perché alla fine non ci sono dei metodi che conoscano cos'è un anno cos'è un mese cos'è un giorno e quindi è abbastanza diciamo di contorta ma internamente in realtà non è altro che la stessa cosa di date perché alla fine internamente memorizza i millisecondi dal primo gennaio di 1970 punto e basta per usarlo essenzialmente essendo una classe astratta non posso fare new devo fare get instance farmi costruire un oggetto calendario impostato sulla distante attuale e poi ovviamente devo impostare se ne voglio impostare un valore che non sia il valore attuale posso usare un metodo set time di calendar che riceve un oggetto date già quasi vorrebbe il nobel per uno che è chiamato set time un metodo che richiede un date che imposta data e ora insieme e però purtroppo e se io voglio dire ma oggi è aprile dovrò fare calendar.set il campo è una costante tipo month costante simbolica definita dentro calendar quindi scriverò calendar.month virgola 4 che è il mese di aprile però devo lavorare con costanti proprio perché questa classe non conosce diciamo così arcoded il nostro calendario ma ce l'ha attraverso dei campi che nel nostro caso nel campo di nel caso di un calendario gregoriano che è quello che usiamo noi sono questi i campi nel caso di altre tipologie di calendari questi campi saranno diversi quindi questa classe è in grado di ragionare in modo neutro rispetto al calendario complicando la vita al programmatore dopodiché ci sono dei metodi di convenienza del tipo imposta anno giorno e mese quindi se voglio impostare il calendario di oggi farò calendar.getinstance e subito dopo calendar.set anno mese giorno quindi 2019 4 15 che però essendo che è un oggetto calendar così come un date non rappresenta solamente la data e l'ora non rappresenta solamente la data ma anche l'ora e visto che i secondi ore, minuti e secondi non le ho messe esplicitamente a zero rimarranno ore, minuti e secondi del momento in cui ho creato l'oggetto quindi se creo due volte due oggetti che voglio che rappresenta la data di oggi e mi dimentico di azzerare ore, minuti e secondi questi oggetti saranno diversi tra di loro perché si portano dietro quando io setto alcuni campi i restanti campi possono essere messi a zero oppure possono mantenere il valore precedente a seconda dei metodi che chiamo quindi lo accenno perché alla fine ci sono molti angoli diciamo così in cui uno si annidano vari bug però per stampare e leggere delle date la classe calendar non ha nessun metodo e allora devo passare avanti e indietro da calendar date con get time set time per poter usare il date formatter per leggere e scrivere quindi per fare la cosa più banale del mondo bisogna scrivere 4-5 oggetti passare i dati da uno all'altro e sperare di non sbagliare allora questo è il passato quello che cerchiamo di considerare passato invece oggi cosa abbiamo oggi abbiamo questo package che si chiama java.time qui ci sono due link se volete un tutorial un pochino più approfondito di quello che diciamo fare adesso che per fortuna ovviamente è stato pensato ripensato dopo 10-15 anni di sofferenza e quindi per fortuna non pensato in modo più ordinato tutti gli oggetti di tipo della libreria java.time sono sempre immutabili quindi non esiste nessun metodo per modificare una data se io voglio la data di domani prenderò un oggetto che rappresenta la data di oggi e ci aggiungerò un giorno creando un nuovo oggetto che rappresenta la data di domani quindi tutta una serie di bugger del tipo ho cambiato l'anno ma mi sono dimenticato di azzerare i secondi non sono più possibili e quindi di fatto devo sempre ogni volta creare nuovi oggetti e la creazione di oggetti avviene quasi sempre con metodi di factory qui non c'è quasi mai un new da creare non si crea mai quasi oggetti con new ma si creano oggetti con una serie di metodi di cui il più frequentemente utilizzato è ov che crea un oggetto che è una data of di cioè usando informazioni che ti passo la data di oggi lo diciamo anche in italiano la date of anno, mese, giorno quello crea un oggetto che è un oggetto di tipo data ecco la cosa altra importante no non c'è scritto non è scritto qua ma lo vediamo tra l'altro un attimo è che oggetti separati per rappresentare date per rappresentare orario per rappresentare le date o le messe insieme vabbè poi ci sono dei metodi che sono stati pensati per essere chiamati in cascata uno rispetto all'altro noi li useremo molto meno e cosa contiene questo package? alla fine contiene queste classi che sono rappresentate qua in questa tabella la prima colonna rappresentare essenzialmente le classi che possiamo usare instant local date local date time zone date time local time eccetera eccetera tutte queste classi rappresentano ciascuna un sotto insieme diverso delle informazioni temporali anno mese giorno ora minuti secondi qui pensiamo al calendario gregoriano e a null'altro non è troppo complicato per essere resogenetico e fusi orari allora vediamo che c'è una classe instant instant che è diversa dalle altre perché ne rappresenta il tempo solamente in secondi questo è il tempo macchina quindi la classe instant rappresenta il tempo macchina tutte le altre classi invece rappresentano il tempo umano local date rappresenta solamente anno, mese e giorno quindi se vogliamo rappresentare una data anno, mese e giorno non ci interessa l'ora se invece ci interessa anche l'ora quindi l'istante preciso in cui inizia un determinato evento possiamo usare local date time che rappresenta anno, mese e giorno ma anche ore, minuti e secondi se in più mi serve esplicitare in quale fuso orario quell'evento avviene uso lo zoned date time che contiene una local date time più il suo fuso orario di corrispondenza se mi interessa solamente un orario userò local time e così via poi ho varie combinazioni mese e giorno il tuo compleanno a mese e giorno non è all'anno come informazione oppure solo l'anno oppure anno e mese oppure mese solo eccetera ad esempio nell'esercizio dello scorso laboratorio potevate lavorare o con mese e giorno perché tanto l'anno era fisso o addirittura anche solamente col giorno perché in realtà il mese veniva scelto e così via quindi già ho degli oggetti che tra l'altro sono furbi nel senso che sapendo quali sono i campi che possono adottare non c'è confusione nel caso degli oggetti precedenti non era possibile distinguere un concetto data cioè 15 aprile 2019 non mi interessa che ora dalla mezzanotte di quel giorno 15 aprile 2019 a mezzanotte perché in entrambi i casi l'avrei presentato con un oggetto che aveva quella data e come ora minuti e secondi zero 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 però quello zero lì voleva dire lo voglio davvero a mezzanotte oppure voleva dire non mi interessa l'ora ecco non c'era questa distinzione qui invece c'è questa distinzione se non mi interessa l'ora userò un oggetto che non ha l'ora se invece un oggetto che ha l'ora e lo metto a zero è perché voglio a zero quindi sono più oggetti diversi ma alla fine ci danno essenzialmente tutte le combinazioni che possono essere utili e poi come dicevo poiché sono immutabili non hanno metodi per cambiare il valore dei campi ma hanno una serie di metodi per trasformare un oggetto in un altro ad esempio per costruire nuovi oggetti ho tre metodi di factory il terzo è parse quindi data una stringa costruisci l'oggetto data data o time o date time dipende di cosa voglio costruire quindi l'oggetto sa già convertire una stringa in un oggetto stesso oppure ho altri due metodi di factory per creare nuovi nuovi oggetti temporali che sono love o il from la differenza è che love prende dei valori esistenti e li mette nell'oggetto il from invece fa delle conversioni ad esempio io potrei avere un date time e lo voglio convertire in un date allora creerò un date punto from di un date time in questo caso ho un date time che viene convertito in un date si perde informazione perché ovviamente vengono troncate loro i minuti quindi il from mi ricorda che prendo un oggetto lo copio copio qualcosa da un altro ma quello che ottengo è una cosa leggermente diversa mentre love invece mette insieme campi senza modificarne essenzialmente il valore ovviamente c'è un get che mi permette di interrogare get year get month get day i vari campi e molto utile è questo with che dato un oggetto mi restituisce una copia di quell'oggetto con uno dei campi modificato quindi col giorno incrementato la data che è col giorno incrementato col mese decrementato con l'anno messo a 7 o cose del genere con i secondi messi a 0 quindi questo with è l'equivalente nel mondo delle classi immutabili di un setter un setter imposto a un certo campo una certa proprietà e un certo valore io qui non posso cambiare proprietà però posso costruire un oggetto nuovo con qualche modifica che ho impostato queste sono un po' le famiglie di metodi quindi vabbè abbiamo un metodo now che mi restituisce l'istante attuale un metodo of in cui posso impostare anno mese giorno o i vari getter per estrarre le varie parti della data o dell'ora o del tempo diciamo così e questo per quanto riguarda informazioni temporali note all'utente poi c'è la classe instant che avevamo citato prima poi l'avevamo un pochino di una certa parte che invece rappresenta il tempo macchina sembra la definizione molto simile a quella precedente perché parla di primo gennaio di 1970 ma la differenza è che questa ragiona in nanosecondi mentre prima si ragionava in millisecondi quindi un milione di volte più precisa nano micro milli ovviamente viene rappresentata sul numero 64 bit per contare fino ai giorni nostri dicono che se non sbaglio nel 2032 finirà questo conteggio e quindi si dovrà passare la presentazione del tempo che usano più bit ancora altrimenti i programmi cominceranno a ritrovarsi nel 1970 a pensare di essere nel 1970 quindi tra un po' dovremmo preoccuparci anche di quando finisce questo conteggio in nanosecondi dopodiché questo classe instant noi la useremo solamente per aumentare appunto quando ci serve il tempo macchina internamente e ovviamente c'è sempre possibile convertire un istante in una data e una data in un istante ovviamente è sempre il metodo per costruire una data a partire da un istante quindi devo passare all'istante ovviamente il fuso orario perché altrimenti lui non potrebbe sapere visto che l'istante ragiona sempre in utc e io la local date invece ci ragiono nel fuso orario locale a lui bisogna sapere la distanza anche per quanto riguarda formatazione e parsing quindi da e verso stringhe ci sono tutta una serie di metodi molto ben forniti che per default lavorano con il formato ISO standard ma se no possono usare un oggetto formatter anche loro per personalizzarlo e adesso qua ci sono delle tabelline che ci ricordano una serie di formati predefiniti qui sono tutti i formati ISO predefiniti ma poi posso definire i miei se avessimo bisogno di ci sono alcuni esempi di come si usano questi oggetti se avessimo bisogno di personalizzare io cerco sempre il più possibile di non perdere troppo tempo dietro all'estetica di come vengono stampate le date però in alcune applicazioni reali sappiate che ci sono poi queste classi in cui posso usare tutti i campi possibili immaginabili per costruire il formato che mi interessa e si usano in questo modo ma oltre a visualizzare e stampare è interessante tutta la parte aritmetica cioè tutte le operazioni che posso fare con le date dicevo prima c'era il metodo WID che prende una data e la modifica in qualche modo la modifica usando vari tipi di criteri di aggiustamento criteri di modifica attraverso di queste classi una famiglia di classi di tipo temporal jaster quindi qui ci sono due videate o tre sulle funzioni definite questi sono dei comparatori minore maggiore uguale operazioni in cui sommo giorni sommo minuti sottraggo minuti qui ci sono il minus ma ci sono anche col plus giorni ore minuti secondi eccetera quindi per fare la data di domani farò la data di oggi plus days uno ok non lo faccio mai a mano non fatevi mai prendere con le mani nel sacco cercare di farvi a mano aritmetica con le date ok allora sommo uno al mese poi se sono al 31 devo rimettere il sommo uno al giorno se poi sono arrivato al 31 devo rimettere il giorno uno a uno incrementare il mese poi vedo se era dicembre eccetera eccetera questi calcoli qua non fateli mai ok usate sempre i metodi che ci sono e poi ci sono se non vi bastano queste somme sottrazioni semplici di quantità temporali ci sono tutti questi adjuster che vi danno qual è il day of week in month quindi vuol dire una nuova data nello stesso mese allora vuol dire qual è il prossimo mercoledì a partire dalla data attuale qual è il giorno della settimana che vado a cercare oppure il giorno della settimana che seguo una determinata data una data che rappresenti il primo giorno del mese corrente oppure il primo giorno del mese prossimo quindi questa qua first day of month mi ritornerà se applicato la data corrente il primo aprile l'altro il primo maggio primo giorno del prossimo anno primo giorno dell'anno corrente eccetera eccetera primo giorno della settimana di un determinato mese quindi ci permettono di spostarci avanti e indietro sul calendario sul calendario noi ci possiamo spostare cambiando mese avanti e indietro cambiando settimana cambiando giorno e qui ci sono queste operazioni che ci permettono di spostarci con questi criteri e quindi ci permettono di evitare assolutamente di doverci fare i calcoli a mano tenendo conto che queste qui già conoscono tutte le stranezze del calendario non ci dobbiamo più pensare noi ci sono ancora altre due classi che vi accenno solo ma anche perché non ne faremo moltissimo uso che invece vanno a rappresentare un aspetto diverso del tempo allora quando vi dico il compito scritto dura due ore quel due ore lì che cos'è? non è un orario non è un'ora dell'orlogio è una durata cioè una differenza da due istanti di tempo quando parlo di una durata è una differenza da due istanti di tempo in cui non mi interessa più a quale istante di tempo è stata applicata o perlomeno l'istante di tempo in cui viene applicato in cui inizia questa durata lo specifico a parte io ho un conto a dire il compito dura dall'1 alle 3 ma non è accurato perché magari un altro appello dura le 2 alle 4 allora l'informazione che ho è la durata che è indipendente rispetto all'istante di inizio allora ci sono anche qua due classi che si chiamano period e duration che rappresentano intervalli di tempo svincolati dal loro inizio ok? perché ci servono due classi ma perché una è in tempo uomo e l'altra in tempo macchina qui diciamo che avevano un po' finita la fantasia quindi non sapevamo come chiamarle erano chiamate entrambi period e duration la duration è la differenza tra due instant un period è una differenza tra due local date time ho fatto l'esempio delle due ore ma in realtà il period potrebbe essere otto settimane ok? quattro mesi due anni e nove giorni non necessariamente deve essere limitato solamente al tempo ma può espandersi sulle date quindi la componente tempo può esserci o non esserci a seconda dell'utilità e quindi ci sono queste due classi che possono essere se servisse la giornata sui periodi quindi ad esempio calcola la differenza tra due date la durata tra T1 e T2 espressa in nanosecondi oppure la differenza tra due dati espressa poi period la posso poi esprimere in mesi in giorni in minuti in secondi e quindi ho questo metodo between che prende due date e mi restituisce il period cioè l'intervallo di tempo che è la distanza e mi permette di fare la sottrazione tra due date da cui posso poi andare ad analizzare quale sia la differenza quindi la cosa che ci interessa forse di più usare forse in alcuni casi sarà questo metodo between ovviamente chi ha pensato alla nuova classe java.time ha pensato anche alla compatibilità col passato e quindi ci sono una serie da java 8 una serie di metodi che permettono di convertire i vecchi oggetti calendar e date in nuovi oggetti di java.time vedete che date viene convertito da e verso un instant perché internamente dicevamo che un date è comunque un tempo macchina mentre calendar viene convertito in date time purtroppo la versione zone per cui devo sempre specificare il fuso orario quindi è possibile passare quando ho un oggetto date to instant lo converto subito quando ho un oggetto calendar to zone date time e mi dimentico degli oggetti vecchi quindi questo come messaggio cerchiamo di usare tutte le volte che dobbiamo lavorare con delle date tra l'altro abbiamo già visto in java.fx quando avete un controllo di tipo calendario lui restituisce già un dato di tipo local date quindi già java.fx usa già questo tipo di dati anziché quelli vecchi ma noi purtroppo dobbiamo ancora sempre fare i conti con le sequelle quindi se è vero che in java cercheremo di usare nuovi oggetti java.time ci prendiamo un po' di familiarità cominciamo a usarli impariamo a usare sicuramente faremo meno errori che non usando gli oggetti vecchi però c'è ancora le sequelle che ha anche lui un suo modo completamente diverso e baccato in modo diverso di rappresentare le date e noi purtroppo non ci basta solo le sequelle perché noi possiamo chiederci come sono rappresentate le informazioni temporali cioè data ora in SQL standard sì ma poi MySQL segue esattamente lo standard o fa qualcosa di diverso sì ma poi quando io interrogo un database MySQL attraverso il driver JDBC il driver JDBC come converte il mondo delle date di SQL anzi di MySQL nel mondo delle date di Java è allora se andiamo a leggere lo standard SQL definisce questi cinque tipologie di informazioni di colonne temporali no? poi definì una colonna di tipo date una colonna di tipo time quindi date è solamente per le date time è solamente per gli orari poi c'è una colonna di tipo timestamp che mette insieme una data e un'ora quindi ci sono tre tipi diversi di colonne se devo rappresentare un'informazione temporale o una data o un'ora oppure data e ora messa insieme e poi ci sono le varianti with time zone che in più hanno anche il fuso orario poi ovviamente la risoluzione temporale è sempre diversa perché nel caso delle SQL non hanno scelto i millisecondi non hanno scelto i nanosecondi hanno scelto 100 nanosecondi come precisione quindi quando salvi un dato e lo rileggi non ho detto che tu rileghi esattamente lo stesso perché viene arrotondato a una base diversa MySQL MySQL invece è diverso nel senso che implementa un po' una cosa che somiglia allo standard implementa un campo date il campo date contiene solamente la parte data e non la parte anno con una curiosità che supporta solamente date dal primo gennaio 1000 non 1970 fino al 31 dicembre 1999 è un range particolare lo standard invece non definiva quali erano i vincoli poi c'è un campo date time che è una data più ora che ovviamente rappresenta lo stesso range con anche gli orari e poi c'è un terzo tipo di dati che è il time stamp che è una variante di date time time stamp rappresenta data e ora però lo posso rappresentare solamente dal 1 gennaio 1970 al 19 gennaio 2038 alle 3 di notte UTC perché lo rappresenta come intero quindi di fatto time stamp è una sorta di tempo macchina che internamente MySQL può usare di fatto rappresenta dei millisecondi dal 1 gennaio 1970 quindi sono due campi leggermente diversi time stamp visto che è più limitato verrebbe voglia di non usarlo cerchiamo quando è possibile di usare date e date time il time stamp viene usato spesso perché di fatto è una colonna che si può impostare il cui valore si può impostare automaticamente tutte le volte che inserisco un dato quindi molte tabelle e molti database trovate una colonna time stamp che contiene non un dato vero ma l'istante di tempo in cui quel dato è stato inserito oppure aggiornato così so esattamente quando quel dato è finito nel database e time stamp viene molto usato perché c'è un automatismo per poterlo fare ovviamente in modo non standard poi è un campo time che viene usato sia per rappresentare un orario sia per rappresentare un intervallo di tempo e ha un range un po' strano di 800 ore 830 ore poi una classe o un tipo di colonna year che che fa paura solamente a leggerlo perché rappresenta un anno codificandolo solo su un byte e quindi su due cifre quindi lui rappresenta solamente i dati dal 1970 al 2069 ma il secolo non lo scrive lo scrive solamente l'anno e a seconda di dove dove si trova l'anno se è in questo range o in quell'altro lui li appiccica da solo 1900 oppure 2000 davanti quindi questo qua evitiamolo sono tutti tipi di dato che arrivano storicamente dalle prime versioni di MySQL quando insomma eravamo ancora molto indietro si cercava di risparmiare il byte non c'erano ancora grossi standard e però sono sovraffissuti fino ad oggi vabbè con questi tipi di dato tipi di colonna già in SQL però è possibile fare molte operazioni adesso di nuovo questa è la classica slide che bisogna ingrandire per riuscire a leggere io ho fatto copia e incolla dal manuale di MySQL online dalla documentazione di tutte le funzioni che lavorano con data e ore ok quindi quando voi dovete fare una query in un database in cui dovete fare delle operazioni che non so tutti i giorni data una certa data io voglio quello che c'era nell'ultima risultazione la misurazione del giorno dopo il calcolo del giorno dopo lo faccio fare al database perché c'è un date add un metodo date add qui a cui passo una data e un offset quindi una distanza di un giorno e lui mi fa già la somma date add date subtract date difference giorno del mese eccetera eccetera quindi prima di mettersi il mio consiglio qual è? le date sono una cosa sporca pericolosa e faticosa quindi tocchiamole il meno possibile se dobbiamo leggere fare delle operazioni su delle date che sono nel database le facciamo dentro il database per quanto possibile facciamo in modo che la query faccia già lei le operazioni di confronto somma sottrazione spostamento sulle date se è possibile se no vabbè ci leggiamo queste date le mettiamo in oggetti opportunamente intelligenti quindi quelli del package java.time e poi facciamo le operazioni volendo in java di sicuro non facciamo mai le operazioni sotto forma di stringa non facciamo mai le operazioni sotto forma di interi cioè il giorno il mese l'anno eccetera eccetera anche se sarebbe la prima tentazione spendete sempre un po' di tempo nel caso in cui appunto ci sono delle query delle operazioni da fare che coinvolgono dell'aritmetica sulle date spendete un po' di tempo a cercare se in SQL magari c'è già il modo di scriverlo nella query e quindi fare le operazioni direttamente lì dopodiché per quelle volte invece in cui l'operazione sulla data non riesco a lasciarla confinata al database ovviamente posso estrarla questa data quindi quando faccio una select qualche cosa da una tabella alcuni campi saranno di tipo date oppure date time oppure time stamp abbiamo visto oppure year eccetera allora così come get integer o get string mi restituiscono oggetto di tipo integer o di tipo string quando vado a interrogare il result set di una query ci sono dei metodi che restituiscono delle informazioni temporali in particolare MySQL questa è una cosa specifica di MySQL definisce tre classi o meglio restituisce oggetti che fanno riferimento a tre classi che sono java.sql.date java.sql.time e java.sql.timestamp facciamo attenzione che java.sql.date non è java.util.date ma è una sottoclasse quindi hanno preso una java.util.date le hanno fatte una sottoclasse perché perché la date in la colonna di tipo date in MySQL contiene solamente data e non l'ora l'oggetto date in java contiene anche ora e minuti secondi quindi hanno fatto una sottoclasse che forza a zero ora e minuti secondi dobbiamo pensare forza a zero non per dire mezzanotte ma per dire non mi interessa e la stessa cosa la classe time che anche lei è una sottoclasse di date perché in java vecchio esisteva solo la date come oggetto per rappresentare il tempo e quindi questo forza a zero anno o mezzogiorno e tiene solamente ore e minuti secondi poi c'è peggio ancora timestamp che è una risoluzione più fine 100 nanosecondi dicevamo in SQL ma data rappresenta solamente in mille secondi allora questa differenza le frazioni di millisecondo dove le metto e timestamp è una classe che dentro ha un oggetto date e un intero che conta le frazioni di millisecondo tanto per renderci la vita semplice ecco quando noi facciamo un get time o un get date da result set ci restituisce uno di questi oggetti che se già la date era complicata da usare figuriamoci questa che ha diciamo così azzerato artificiosamente alcuni campi senza tenere conto il fuso vario tra l'altro quindi in pratica questa tabellina ci riassume cosa succede se io in MySQL ho una tabella di tipo date il metodo get date mi restituirà un oggetto di tipo date una colonna di tipo date time o di tipo timestamp che sono due colonne diverse si comportano diversamente in MySQL in realtà quando faccio un get mi danno lo stesso tipo di oggetto colonne time mi restituisce time year non fammici pensare non guardiamo neanche cosa fa in realtà ti può ritornare o un intero o una date vabbè e come faccio a ricondurmi il prima possibile a tipi di dato di Java 8 e ci sono dei metodi ad esempio java.sql.date che è quello che ottengo da una colonna di tipo date a un metodo tolocaldate quindi questo vuol dire facciamolo subito quando io faccio una query da database farò result set punto get date nome della colonna punto tolocaldate subito e me lo converto in oggetto local date che posso memorizzare e usare all'interno dei miei oggetti questo è il contrario il value of serve per creare un oggetto java.sql.date partendo da una local date questo mi serve se devo fare un set quindi devo scriverlo nel database oppure usarlo come un parametro di una query al posto di set parameter 1, 2, 3 e quindi devo creare un oggetto di questo genere la stessa cosa una cosa molto simile si può fare col timestamp e qui posso scegliere se convertire il timestamp che dicevamo è ora più minuti data più ora in un oggetto instant quindi tempo macchina oppure in un oggetto molto più probabilmente per i programmi che facciamo noi un oggetto local date time la differenza rispetto a prima è che qui c'è solamente local date qui c'è local date time quindi abbiamo tutti questa figurina guarda riassume tutte le frecce possibili tutti i passaggi possibili tra i tipi di data date e timestamp a destra di java.sql e i tipi di data local date o instant di java.time sulla sinistra quindi quando ci interfacciamo il mio consiglio da questo lavoro lo facciamo fare al DAO quindi nei metodi del DAO avremo un'interfaccia in termini di oggetti passati oggetti ricevuti che sono oggetti java.time mentre invece i metodi dentro il DAO farò tutte le porcate diciamo così le schifezze che devo fare per poter gestire i tipi di dato fatti con oggetti progettati 15 anni fa quindi suggerimenti evitiamo sempre java.utti.date java.utti.calender usiamo sempre le classi java.time e spendiamo il tempo che serve per capire come funzionano le operazioni aritmetiche che ci servono adesso non stiamo qua a due ore a fare esempi o vedere uno per uno queste varie funzioni aritmetiche tipicamente quando in un esercizio ci serve qualcosa ci andiamo a cercare e capire come funziona quella tipica parte come sempre le librerie sono sempre molto vaste per poter apprendere tutte all'inizio uno ci si orienta e poi va a approfondire quando gli serve ok quindi cerchiamo sempre di sappiamo che questi oggetti sono progettati bene di fatto sono capaci di fare tutte le operazioni che ha senso fare sulle date e quindi sicuramente ciò che cerchiamo ci potrà essere lì senza doverci sporcare le mani a lavorare sui singoli componenti della data questo è l'errore peggiore che potremmo fare in SQL facciamo sempre attenzione alle colonne se sono data o date time o solo time non facciamo confusione perché altrimenti rischiamo di trovarci delle date in cui i minuti o viceversa gli anni sono forzati a zero e appena possibile come dicevamo prima to local date e ci dimentichiamo dei tipi di dato di MySQL e quando possibile dicevamo facciamo in modo che i calcoli vengono fatti nel database e non in Java in particolare questi sono dei pericoli di morte se provate a fare queste cose non da parte mia perché sono pacifico ma vi causate la morte da soli se cercate di estrarre o lavorare con le date come se fossero stringhe cioè ma sì ma cosa ci vuole alla fine il mese se io 14 15 04 2019 il mese sono i caratteri quindi 15 sbarra sono il quarto il quarto il quinto carattere della stringa e allora posso usare una sottostringa per andare a estrarre adesso questo qua diceva partiva dal terzo e non dal quattro sia dal terzo carattere perché sì perché pensavo che non ci fosse il trattino ma se so che c'è il trattino devo partire dal 4 estrago quelle due cose e poi io ho un numero che ho una sottostringa che rappresenta il mese e la converto in un intero dopodiché devo impazzire se lo mino mette o non mette il trattino devo impazzire se aprile scrive 4 seppure scrive 0,4 cioè devo impazzire e basta sempre così come questa si vede tantissimo se vi fate un giro su stack over o cose simili uno ha l'anno il giorno il mese e per creare un oggetto di tipo data crea una stringa e poi cerca di passificare quella stringa ok adesso noi in java.time semplicemente si farà local date punto ov anno virgola mese anno virgola giorno ma anche prima si poteva fare con date punto set anzi calendar punto set potevi settare anno mese giorno però nonostante ci fosse un metodo che esplicitamente prendeva i valori interi dell'anno del mese del giorno si vedeva molta gente che è affezionata alle stringhe componeva una stringa che a prima vista sembrava quella data e la faceva passificare dalla libreria oppure cose di questo genere cioè questo qua è un tentativo di far domani un tentativo di calcolare domani a codice in cui uno ha giorno mese e anno separati e deve calcolare il giorno successivo ok una cosa di questo genere non sarà mai giusta se non altro per la regola di calcolo dei bisestili che da un certo anno in avanti era così ma in precedenza non era vero il test degli anni divisibili per 100 ma non per 400 non esisteva ancora e poi non siamo tenuti a conoscere tutte le stranezze ci sono dei periodi nella storia in cui sono stati cancellati dei giorni per sincronizzare dei calendari quindi non se vi accorgete che state scrivendo del codice di questo genere in cui la data la state trattando come una stringa o la data la state trattando come una serie di numeri interi che poi cercate di interpretare fermatevi fate un bel respiro e ripensate a come state gestendo la cosa perché altrimenti rischiate di perdere un'ora a fare queste cose e alla fine non funzioneranno mai garantito ok allora questa è semplicemente la presentazione di questa nostra libreria Java 8 non vi ho detto solo una cosa che vi avevo promesso perché c'era questo mino qua perché la libreria java.time è in realtà stata standardizzata all'interno della libreria java ufficiali partendo da una libreria che si chiamava yodatime che era una libreria open source che si diffondeva al suo tempo perché si chiamava yodatime ve ne accorgete perché non avendo il new non avendo la possibilità di creare oggetti ma quindi avendo tutti questi metodi di modifica sembra quando scrivete codice che usa questa libreria sembra di parlare come yoda nel senso che dite sempre le parole contrario anziché new date fate date of e cose del genere quindi bisogna un po' abituarci a questo modo di parlare ma che infatti è comune alle interfacce tipo fluente in cui prendo un oggetto e poi via via lo modifico va bene a parte questa nota di colore anche oggi abbiamo finito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti